Grazie a tutti. Diciamo che per noi queste ultime quattro partite sono delle partite importantissime perché facendo bene ci può aspettare un futuro molto positivo. E' chiaro che non sarà semplice perché andremo a affrontare delle squadre che si devono salvare oppure stanno giocando anche loro per una promozione e quindi saranno delle partite molto intense. Bisogna viverle consapevoli sicuramente delle nostre forze senza avere pressioni perché comunque a volte le pressioni ti possono portare a non giocare come vorresti. E quindi cercare di allenarsi bene, cercare di preparare le partite nel miglior modo possibile. E poi come ho sempre detto abbiamo delle qualità da sfruttare. Abbiamo una rosa molto importante e molto ampia che ci possono permettere di girare i giocatori. E chiunque giochi non si nota la differenza. Cercheremo già da sabato a proporre il nostro gioco e cercare appunto di portare a casa già un risultato positivo che ci può permettere di continuare nel miglior modo possibile. Alessio Amato di Calcio Lecce chiede Cosa pensi possa fare la differenza in questo rush finale? Giocare gare di un certo peso senza pubblico. Quanto può influire nella percezione della pressione per un calciatore? Ma sai ora in questo momento è importante per noi stare tranquilli. È normale che stiamo vivendo un momento molto particolare. E' pubblico ormai manca da tanto tempo. Quindi tra virgolette un po' noi abbiamo già messo da parte il fatto del tifoso. Sappiamo che da fuori i nostri tifosi ci stanno vicini e questo è l'importante. Ora noi dobbiamo stare più uniti possibile. Cercare di unirsi ancora di più perché per noi queste quattro partite sono fondamentali. E senza cercare come ho detto prima di portare a casa delle pressioni che ci possono magari far del male. Però l'importante è sapere che anche se manca il tifoso allo stadio sappiamo che da fuori i tifosi sono vicini a noi. E cosa pensi possa fare la differenza in questo rush finale? Ma la tranquillità è pensare a noi stessi. Si è parlato tanto, magari in questo momento pensare agli altri cosa faranno nei risultati nelle partite. Però conta relativamente. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, fare sempre il massimo e portare a casa sempre il massimo. Carmen Tommasi di Telerama chiede se ti aspettavi di diventare così importante per il Leccio in pochissimo tempo e se puoi svelare un segreto di mister Corini. Sono contento, ovviamente sono contento del percorso fatto fino ad ora. Ho sempre cercato di dare me stesso e dare soprattutto una mano a chi ne aveva bisogno e fino adesso sto avendo dei risultati positivi. E questo mi fa piacere e spero di continuare ancora fino alla fine del campionato. Dire del mister sono tante cose da dire. Sicuramente è un attore che a me piace molto, parla molto con i giocatori e questa è la cosa più fondamentale. E soprattutto ci mette tranquillità. Sa anche lui, penso dentro di sé, che sono quattro finali. Però l'importante è che lui ci trasmetta serenità e questo fa sì che ci possano permettere di avvicinarci a queste quattro partite nel mio modo possibile. Matteo Bottazzo di Canale 85 chiede come si affrontano queste quattro gare, queste quattro finali. Poi ancora la Salernitana con Castori positivo al Covid, il Monza con il Caos Casinò. Sono fatti che possono avere un certo peso nelle prossime sfide? Per quanto mi riguarda non penso. Ci sono dei problemi interni in queste squadre, però a livello mio personale, ma penso neanche di squadra, a noi non conta poco. Come ho detto prima, noi cercheremo di prepararci bene, perché è la nostra cosa più importante e poi vedremo come andrà a finire. E' chiaro, come ho sempre detto, finire questo campionato nel mio modo possibile ci permette di arrivare a un risultato importantissimo e stupendo. E' chiaro che per arrivarci bisogna correre, bisogna camminare ancora molto. Però, ripeto, il percorso che abbiamo fatto fino adesso è sicuramente positivo, quindi sarebbe un peccato buttare via tutto in queste ultime quattro partite. Come le affronterete queste quattro gare? Le affronteremo come le abbiamo sempre affrontate, con la mentalità giusta, con la voglia soprattutto giusta, cercando magari di migliorare quegli errori che abbiamo commesso nelle altre partite, soprattutto magari di calare di attenzione, perché mi ricordo soprattutto una partita contro il Chievo, che eravamo in vantaggio, soprattutto nel secondo tempo abbiamo mollato un pochettino, e questo non lo dobbiamo permettere, insomma, dobbiamo cercare sempre di mantenere la tranquillità, l'attenzione soprattutto fino al novantesimo. Giuseppe Andriani di Antenna Sud chiede, secondo te quale può essere l'arma in più per andare in Serie A? L'arma in più, secondo me, è avere tutti i giocatori a disposizione. Sappiamo che abbiamo avuto qualche infortunio nelle partite precedenti ed ora, insomma, stanno rientrando tutti. Quindi penso che nell'ultimo rush finale, insomma, abbiamo bisogno veramente di tutta la rosa. Il ministro, penso, abbia la possibilità di cambiare giocatori e, come ho detto prima, insomma, chi entra fa sempre bene. Quindi meglio così, avere tanti giocatori a disposizione, perché, come ho detto, gli ultimi quattro partite sono importanti tutti i ragazzi. C'è l'ultima domanda di Pierpaolo Verri di Pianeta Lecce. Che significato avrebbe per te, dopo una carriera lunga e ricca di successi in ambito nazionale e continentale, poter coronare questa tua esperienza nel Salento, nata quasi per caso lo scorso febbraio, con un successo straordinario come la promozione? Sarebbe sicuramente un risultato in più. È chiaro che io, ma come tanti giocatori, vivono questo sport per arrivare a degli obiettivi. Quando ho scelto Lecce, insomma, sapevo del progetto, sapevo che è soprattutto una società ambiziosa, importante, al di là della conoscenza con il direttore Corvino, però ho scelto una squadra giusta, che vuole ambire a grandi palcoscenici e quindi per adesso sono contento del mio percorso. Speriamo di concludere nel mio modo possibile, però manca ancora qualche settimana e vedremo poi alla fine cosa succederà.